Buona prossima news ragazzi, ebbene Marco Lazdic è tornato in gruppo come, anzi con un anticipo rispetto alle prime parole di Piodi di settimana scorsa, Lazdic è di nuovo disponibile, potrebbe essere convocato per la sfida culinese, quindi il caso Lazdic di cui avevo anche parlato si è risolto positivamente diciamo se di caso si vuole parlare, ci vediamo dopo.